vi presento il merino lace che oramai conoscete però mi piace troppo è stato di nuovo riassortito ed è stupendo io sto lavorando qui guardate che meraviglia il gelsomino romantico lo trovate sul sito io lo sto abbellendo e anche questa parte ci sarà nel nostro tutorial troppo troppo bello un pochino di già che il punto è meraviglioso il maglioncino stupendo soltanto 200 grammi pensate che meraviglia che leggerezza soltanto 200 grammi di maglioncino lavorato con uncinetto da 5 quindi velocissimo guardate che meraviglia li adoro li adoro e credetemi sono facilissimi da fare facilissimi meraviglia delle meraviglie avete il link nel box info ciao